Prima di Stefanelia mantiene i fattori radici, la capolista nuova ferita stringe i denti grazie alla sua difesa di ferro e essendene nel confronto con il San Termete. Il pareggio per 0-0 mantiene invariata la distanza ai 5 punti tra le due squadre. Ne approfitte Morciano, vittorioso sul campo della Tavalconca e ora secondi, solitaria, a meno 3 dalla vetta. Ma la prestazione degli uomini di fabbrica, considerate per l'appunto le numerose assenze, è da ritenersi molto positiva. La squadra tiene a bada gli attacchi di un San Termete, venuta nuova fete, per cercare di fare lo sgambetto all'avversario. Invece a livello mentale e fisico i giallobrus fornano una prova di grande maturità. Deludono invece i paperini del presidente Martino che per scaramanzia continua a ribadire che tra i due litiganti potrebbe godere il terzo. Il riferimento casuale si chiama Morciano. Al comunale di nuova fete è una partita equilibrata che vive la sua prima emozione al decimo, quando Rinaldi dalla prima vetta a campo, sul suggerimento di Francesco Baldinini, verticalizza la sotterra sorprendendo la difesa avversaria, ma Guerra in uscita bassa stoppa il terzino Cupi. In nuova fete si dimostra come di consueto ben messo in campo e abile a chiudere gli spazi, impedendo a Gentile e Bianchini di trovare lo spunto vincente, anche se quest'ultimo, seppur da posizione di filata, prova a colpire. Nel frattempo viene richiamato il panchino tecnico del nuova fete Achille Fabri. Sarà la prima visaglia per l'ex coreano. Al 32esimo sono così gli uomini di casa a sfiorare il vantaggio. Gori serve Tommaso Raffaelli in aria, defilato solo a sinistra, magia dell'attaccante che si gira e calcia di destra sul primo palo, trovando proprio il montante a Negalli. Il gol, l'azione prosegue, ma Ceccaroni non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Il replay ci mostra l'ottimo movimento della punta con la sfera che termina sul palo. E ancora Gori, tra l'altro tra i migliori in campo, a scodelare un cross di destra che trova Cupi ben piazzato, ma il colpo di testa è parato facilmente dall'attento guerra. La partita non riserva emozioni, ma il comunale esprime un colpo d'occhio non da poco, considerate le unità presenti, che si tratta di prima categoria. Se poi a questo aggiungiamo che in televisione contemporaneamente c'è la Champions League, l'applauso è obbligatorio. A inizio ripresa si fa vedere Bianchini che al 51esimo brucia un avversario dal fondo, mette al centro, schema tipico del San Termete che Rinaldi ferma con una providenziale chiusura. Il direttore di gara si avvicina nuovamente al tecnico di casa Achille Fabri, invitandolo ad uscire anzitempo da rettangolo di gioco, cosa inusuale per lui, ma la tensione in questi match si sente e come. Gli ospiti tardivamente giocano alle carte Filippo Del Prete e Bizzocchi. C'è tempo per vedere l'ultima uscita di pugno di guerra e dall'altra parte quella di Sempini a smanacciare palloni pericolosi, prima che Bizzocchi metta abbondantemente a lato. Rimane questa l'ultima fiammata di una partita che non ha creato particolari emozioni, se non recare come dato di fatto che Nuova Fete e San Termete si giocheranno il campionato fino alla fine in compagnia del Morciano.